Sonic è una vera e propria icona del mondo dei videogiochi. Chi è cresciuto negli anni 90 non può non ricordare con affetto lo storico rivale di Mario, l'unico personaggio in grado di mettere in crisi lo strapotere dell'idraulico italiano. La mascotte della sega dei tempi d'oro non gode più della popolarità di un tempo, ma il grandissimo successo riscosso al cinema proprio in questi giorni dimostra come Sonic abbia ancora molto da dire. E quindi credo sia proprio il caso di fare una bella guida introduttiva ad uno dei personaggi sicuramente di meno facile approccio di tutto il roster di Super Smash Bros Ultimate. Se con Mario abbiamo un all-arounder, un fighter equilibrato in ogni sua statistica, pensato per essere la scelta perfetta per i neofiti, con Sonic è tutta un'altra storia. Il porcospino blu è un personaggio che richiede pratica e una profonda conoscenza delle meccaniche di gioco, dalle più semplici a quelle più avanzate. Sarò molto felice di mostrarvi le sue potenzialità, starà poi a voi mettere in pratica quanto appreso e sviluppare un playstyle degno di quest'icona videoludica. Io sono il poro Michele e queste sono le guide ai personaggi di Super Smash Bros Ultimate. Confezionarle è una vera impresa titanica, quindi dimostrami il tuo affetto con un bel like e iscriviti al canale se sei nuovo. Iniziamo! Velocità Supersonica! Il Sonic di Ultimate cattura perfettamente l'essenza del protagonista dei platform anni 90 targati SEGA. È un personaggio che trova il suo punto di forza in una delle migliori velocità di gioco, che gli consente di ricoprire con estrema rapidità porzioni dello stage e mettere sotto pressione l'avversario. Il neutral di Sonic è tremendamente aggressivo e l'obiettivo è quello di sfruttare la sua mobilità e il suo moveset imprevedibile per confondere i nemici eliminando qualsiasi punto di riferimento. Va da sé che bisogna conoscere nel dettaglio tutte le mosse e le loro funzioni e allo stesso tempo padroneggiarle per consentire esecuzioni rapide e precise. Come se non bastasse, il più grande tallone da killer di Sonic è la difficoltà nel mettere a segno e KO. Vedremo infatti che sebbene non abbia problemi ad alzare vertiginosamente il danno degli opponenti, mancano mosse con elevato knockback da poter essere kill confirm anche a percentuali medie. Quindi, mi ripeto, ma è fondamentale conoscere tutto il moveset per massimizzare le possibilità di chiudere le stock prima che l'avversario approfitti della leggerezza di Sonic per portarsi in vantaggio. Iniziamo col jab e il dash attack. Il jab è una combo di tre colpi di media potenza e buona velocità ed è anche un'ottima opzione out of shield. Il dash attack, invece, è un calcio in scivolata con un buon knockback che vi permetterà di inseguire l'avversario lanciato. Cercate solo di non abusarne. Visto che spesso vi ritroverete in corsa, con Sonic è normale che il dash attack sia una delle prime opzioni ad uscire dai vostri input, ma l'elevato ending lag non lo posiziona di certo tra le sue migliori mosse. Per quanto riguarda i tilt attack, abbiamo a disposizione delle mosse rapide e con delle buone potenzialità di spacing. Tra le tre spicca il forward. Con un'ottima estensione orizzontale e una veloce esecuzione, è un ottimo modo per mettere pressione all'avversario e allontanarlo se si avvicina troppo. L'up tilt ha estensione praticamente solo verticale ed è una mossa da prendere in considerazione per cogliere di sorpresa il nemico che si trova sopra ad una piattaforma. Il down tilt, invece, è un buon tool per mettere pressione all'avversario sul bordo e a percentuali alte proietta verticalmente il nemico in aria, fornendo ottima opportunità di combo. F tilt e up tilt possono essere messi in combo facilmente con un nail. Il discorso cambia radicalmente per gli smash attack. Con il side smash abbiamo una delle principali kill option di Sonic. È un pugno dal buon range e mentre viene caricato, il porcospino sposta il baricentro indietro, diminuendo significativamente le sue hardbox. Inoltre può essere angolata verso l'alto o il basso durante l'animazione di caricamento, rendendola a tutti gli effetti un ottimo tentativo offensivo verso un avversario che per prova a recuperare sul bordo. Con up smash e down smash abbiamo attacchi potenti ma che rendono eccessivamente vulnerabile Sonic, complice a un ending lag considerevole. La down smash è una spaccata con l'hitbox leggermente più estesa sulla gamba dietro, mentre l'up smash è una multi-hit dal buon potere di attacco ma che difficilmente riuscirete ad inserire in delle strategie offensive. Potrebbe però essere un'ottima opzione per coprire diversi tentativi di rientro. Il gioco aereo di Sonic richiede molta precisione e controllo. Il nair è un ottimo combo starter e a basse percentuali può essere seguito facilmente da dei tilt attack, come ho già detto, mentre ad alte percentuali potrete metterlo in combo con altri attacchi aerei, come un altro nair, un up air e un fair. Il down air è un calcio impicchiata verso il basso che bloccherà il porcospino per un significativo lasso di tempo una volta toccato il terreno. Offstage può trasformarsi in una spike anche se è richiesta una precisione di frame millimetrica, ma state molto attenti perché il suicidio è dietro l'angolo. La pair invece è un ottimo strumento per le azioni di juggling e può e deve essere inserito nelle vostre combo aeree. Ad alte percentuali può diventare una kill move se l'avversario si trova già nella parte alta dello schermo. I due attacchi aerei laterali sono la punta di diamante dell'offensiva in volo di Sonic. Il fair è una multi-hit rapidissima che può combare con se stessa e se inserita in delle combo aeree con il giusto timing può allontanare definitivamente dal bordo anche a basse percentuali di danno. La sua capacità di prendere una stock è seconda solo al bear, un calcio devastante, almeno per Sonic, che dovrete imparare ad integrare da subito nelle vostre offensive offstage. Passiamo ora alle mosse speciali, il fulcro del moveset di Sonic, dove la velocità e l'imprevedibilità della mascotte SEGA esprimono il loro massimo potenziale. Il neutral B è l'attacco a ricerca. Premendo una volta il tasto dell'attacco speciale, Sonic inizierà a fluttuare verticalmente assumendo la forma di una palla. Rilasciandolo si scaglierà contro l'avversario più vicino. Badasek è un ottimo tool per cogliere la sprovvista, ma anche per allontanare chi sta cercando di mettervi pressione. Ci sono però alcuni elementi importanti da notare. Più l'attacco è caricato, più diventa potente. Premendo il rapida successione B, avremo sia un'offensiva imprevedibile, ma dalla bassa percentuale di danno. Inoltre, se non c'è nessun avversario da agganciare, Sonic andrà verso il basso. Ve ne sconsiglio caldamente e quindi l'utilizza offstage. E ora il motivo per cui ho deciso di fare questa guida è anche quello per cui molto probabilmente siete capitati qui. Capire come funzionano e in cosa differiscono lo spin dash e lo spin charge. Le mosse sono molto simili esteticamente, ma hanno importanti peculiarità che le differenziano. Dovrete riuscire a padroneggiarle al meglio, scegliendo di situazione in situazione quale sia più opportuno utilizzare, ma soprattutto sfruttarle come diversivo per confondere l'avversario. Partiamo dalla side B, lo spin dash. Tenendo premuto il tasto speciale associando il movimento dello stick analogico verso sinistra o destra, Sonic inizierà a caricare sotto forma di palla uno scatto contro l'avversario. Se caricato al massimo vedrete una luce gialla circondare Sonic. Ovviamente più caricherete, maggiore sarà la velocità di esecuzione ed ha anche il danno inflitto. Per far partire lo scatto basta rilasciare il tasto B. Toccando l'avversario lo colpirete una sola volta e per uscire dall'animazione potrete premere un'altra volta il tasto B o il tasto salto per staccarvi da terra. Questo movimento è fondamentale perché potrete eseguire l'attacco con un qualsiasi aerial o anche un neutral B, concatenandoli al primo attacco dello spin dash. Una volta avviata la carica potrete saltare tre volte sul posto prima della partenza del colpo, ma non potrete annullare lo scatto. Il metodo più veloce per interrompere l'attacco è quello di saltare ed eseguire una mossa aerea per riprendere con facilità il controllo. Ultima caratteristica interessante è che se lo spin dash non viene caricato al massimo in partenza, Sonic effettuerà un piccolo salto. Durante l'arco di stacco dal suolo il personaggio avrà dei frame di invincibilità, risultando immune ad esempio a colpi di proiettile scagliati da lontano. La down B, lo spin charge, è simile nell'esecuzione, ma presenta sostanziali differenze. Per caricarlo bisogna mesciare il tasto B tenendo premuta la levetta analogica verso il basso. Si può uscire dalla mossa semplicemente smettendo di premere ripetutamente il tasto B, ma saltando, a differenza dello spin dash, perderete tutta la carica acquisita. Fondamentale poi è che lo spin charge è multi hit e quindi si comporta in modo molto differente con lo scudo degli avversari. La parte finale della mossa è uguale però al side B e valgono gli stessi consigli su come concatenare le combo. Infine l'up B, lo spring jump, è un'ottima mossa di recovery che consente un grande spostamento verticale a fronte di un orizzontale praticamente nullo. La cosa positiva è che dopo aver eseguito un up B, Sonic potrà ancora fare sia delle air dodge, recuperando così un po' di quello spostamento orizzontale mancante, sia gli aerial, estendendo così il suo potenziale di combo quando l'avversario è lanciato in lontananza. Inoltre la molla su cui Sonic rimbalza può essere utilizzata per infastidire manovre di rientro. Per finire passiamo alle prese. A fronte di una down, una forward throw abbastanza anonime, abbiamo l'up throw che sarà la vostra principale combo starter sia a basse che a medie alte percentuali di danno e la back throw che rientra di diritto nella ristretta cerchia di mosse in grado di togliere una stock, ma anche in questo caso dovrete alzare parecchio il danno di chi gli sta di fronte prima di riuscire a prendere una vita. Quindi ricapitoliamo. Sonic non è assolutamente un personaggio di facile utilizzo. Bisogna innanzitutto ragionare adeguandosi alla sua velocità di azione, cosa che non è assolutamente facile. È necessario poi conoscere a mena dito il suo moveset perché per alzare significativamente il danno e arrivare alla tanta agognata kill dovrete far interagire perfettamente mosse speciali, aerial e pressione offstage. Come se non bastasse, la mancanza di un buon set di Kill Confirm rende tutto ancora più ostico, ma ragazzi andatevi a vedere qualche pro di Sonic come Ken o Sonics per rendervi conto di quante soddisfazioni può dare minare un personaggio del genere. Il resto sta a voi, siete in grado di andare così veloci? Spero che questa guida vi sia piaciuta, è stato molto faticoso confezionarla, in realtà ho tralasciato alcune meccaniche avanzate che forse richiederebbero dei video a parte per essere esplorate nel dettaglio. Ragazzi, vi aspetto nei commenti, mi raccomando smash like now, fatemi sapere se vorreste vedere qualche altra guida e se siete nuovi iscrivetevi. Grazie a tutti per il supporto e la pazienza, io sono il Pono Michele, lo youtuber più lento al mondo, ciao! Ciao!